mezzo m2 notto, il telefono è piuttosto veloce, proviamo a usare questa funzione camera hdr vediamo se si attiva, si si attiva, ecco qua, scettiamo la foto, guardiamo la bellina, è notte, possiamo usare la varnisce, mettiamoci questo, non ce l'ho mai, mettiamo questo come varnisce, anzi questo, questo è questo, salviamo, ok, rilassiamo la foto, c'è la trappata, non vedrà bene, salviamo, chiediamo i problemi di ristrazione, lasciamo da qua, e chiudiamo,